Musica Benvenute, allora oggi vi mostro l'album numero 17 del Libre She Album che valido fino al 24 gennaio 2018 Quindi ultimo album dell'anno e primo del nuovo anno Uno degli album più attesi perché è quello con tutti i saldi Tutti i prodotti del catalogo sono scontati fino al 40% Vi faccio vedere una carellata veloce perché il catalogo comunque potete scaricarlo qui sotto E poi abbiamo il set per i capelli in promozione E poi non dimentichiamoci i fine serie scontati fino al 60% Iniziamo a sfogliarlo Allora eccoci, iniziamo a sfogliare il catalogo Dunque qua vediamo tutte le promozioni Comunque vi ho detto che tutto il catalogo è scontato fino al 40% Quindi vedete i vari prodotti con i prezzi Ecco Tutte le varie linee Ovviamente le linee viso Tutte quante con sconti fino al 40% E in alcuni casi è anche video 41% Quindi, ok Tutte le varie linee per il viso Ecco Andiamo avanti Lidra vegetale Pur system Seguo vegetale Ecco qui BB cream Il make up Sia i correttori che il fondotinta Quindi questo è un momento davvero di fare scorta Perché sono fantastici Il primer, la terra, la cipria Il blush, il mascara Ecco qui Matitte I rossetti E i liner Tutto Il catalogo è scontato con sconti fino al 40% La linea corpo Eccole qui Oh scusate Le creme mani I trattamenti per la doccia Quindi il bagno doccia Eccoli qui Tutte le linee Ecco il mango Oliva Mandola, fiole arancio I trattamenti per i capelli Perché oltre al balsamo Abbiamo Vediamo Queste sono le maschere E quelle qua I set per i capelli Set stimolante Comprende due shampoo stimolanti A 7,95 Oppure a 7,95 Due set Quindi due shampoo Questi qua in formato grande Antiforfora Stessa cosa per il 3 in 1 5,95 Lo shampoo volumizzante Sempre due confezioni Oppure da quello purezza Due confezioni 5,95 Del set Shampoo Lusciantezza Oppure del Lusciantezza Eccolo qua Lama melis Oppure quello Due shampoo Luscianti Quello per i capelli ricci Quello per i nutrienti Quello per i capelli Abilante a testa intensa Potenzione luminosità Potenzione luminosità Sempre due confezioni E per finire Il nutri riparatore Poi abbiamo Il fine serie Con sconti Fino a 60 Quindi abbiamo Gli ombretti Crema lunga tenuta Eccoli qui Il colore Tra questi due Oppure il top coat Fetto metallizzato Questi due ombretti Con i due colori E Poi vediamo Le matite occhi Le matite jumbo Il collo intenso Il Cushion Il fondotinta cushion Va a fine serie Quindi scontato Del 39% Colorazione Con il codice E Matite glossi Le palette Di rossetti I gloss Sexy pulp Il matitone Glossi Il set Degli smalti Oppure gli smalti Nei questi due colori Il paillette Latte corpo Mirtile mandorla Il balsamo Di argan Crema nutriente 3 in 1 SOS Mani pulite Questa è davvero Da prendere Perché è comorissima In borsetta Poi anche la linea Albicocca e rosmarino È tutta scontata Perché va fuori Produzione Ovviamente Perché è estiva E questo Era tutto l'album Allora Abbiamo sfogliato Tutto l'album Avete visto Che è stata una Carellata veloce Perché poi adesso Qui sotto Nell'info box Trovate il link Per scaricarlo E il formato pdf Così potete tranquillamente Sfogliarlo Con calma Sui vostri dispositivi Elettronici E vi ricordo Che l'album Numero 17 Valido Fino al 24 Gennaio 2018 E non mi resta Che augurarvi Buon anno Buone feste E buoni acquisti Con il Magico Natural Mondo Di vero Di vero Mi Mi M Mi Grazie a tutti.